Anche quest'anno la scuola Don Milani ha realizzato i mercatini della solidarietà facendo partecipare gli alunni della scuola media di Ariano Savignano Greci e Montaguto. Il ricavato sarà interamente devoluto per i bambini curati dall'associazione Sarger of Children. Anche quest'anno il mercatino che è la gioia per tutti questi nostri alunni perché riconoscono la finalità e quindi è il terzo anno e sanno bene a cosa serviranno quei piccoli sacrifici che hanno fatto. Serviranno ai loro coetanei meno fortunati che si trovano in Africa negli ospedali da campo laddove si vive in un modo indicibile. Un augurio particolare ai suoi alunni, agli alunni dei suoi quattro plessi. Un augurio particolare a tutti gli alunni della città, non solo ai nostri alunni ma a tutti gli alunni che frequentano le scuole di Ariano Irpino e l'offerta formativa di tutte le scuole tanto varia e quindi ce n'è per tutti i gusti. Vi aspettiamo ad Ariano. Lo scambio degli auguri è stata anche l'occasione per riflettere sul tema di grande attualità che riguarda l'acqua intesa come risorsa e bene prezioso. Qui dall'antico, l'unità, l'uomo è salvato, l'acqua, libertà, identità, abbagnato del campo a zolla, dell'uomo costruzato, quando dal paradiso travolto, dall'asta all'invio rosa. Il tema dell'acqua è un tema che rientra nel progetto di istituto che si occupa non solo dell'acqua, il progetto AMA, acqua, musica, amicizia. Noi abbiamo scelto quello dell'acqua perché mai così attuale come quest'anno dove sembra che il mondo si sia accorto che l'acqua è una risorsa insostituibile e che è una risorsa a rischio. Quindi abbiamo scelto questo tema con i ragazzi, abbiamo lavorato sull'attualità di questo tema ma l'abbiamo declinato nell'esperienza poetica. Quindi abbiamo fatto delle quartine, hanno imparato a gestire il verso, la rima e hanno pensato di produrre una performance a pagamento all'interno del mercato offrendo così il loro contributo alla solidarietà e quindi a Sorgery for Children a cui siamo molto legati.